carissimi tutti buongiorno questa è la risoluzione della seconda parte dell'indovinello è un contenitore ma è un vaso vi racconto la storia di zeus e di pandora zeus invidioso degli uomini decise di rovinarli e regalò a pandora un vaso con la promessa di non aprirlo mai pandora invece che era una ragazza intelligente e curiosa la prima cosa che fece fu aprirla nel momento stesso in cui l'aprì da quel vaso uscirono morte disperazione malattie sofferenze e tutte quelle cose orrende che tempestano la nostra vita l'unica cosa che rimase sul fondo e che non riuscì ad uscire fu la speranza quando pandora guardandosi intorno vide tutta questa disperazione aprì nuovamente il vaso e fece uscire la speranza il 2021 si è conclusa con una domanda cosa contengono i tre contenitori bene il 2021 comincia con una risposta la speranza la speranza che sappiamo di essere figli di dio amati da dio e che quindi non verremo mai abbandonati buona giornata a tutti grazie a tutti